11 milioni di euro annui per 10 anni potrebbero essere destinati dal governo alle casse della nuova Pescara se il Parlamento approverà i due emendamenti presentati dal deputato abruzzese del Movimento 5 Stelle Andrea Colletti. Attualmente i due emendamenti sono in discussione alla Camera dei Deputati e sono parte di un fondo che ammonta 48 milioni di euro. L'Onorevole Colletti ha spiegato insieme ai candidati a sindaco pentastellati di Pescara, Erika Alessandrini e di Montesilvano, Raffaele Panichella che se si considera che entro il 2050, al massimo entro il 2070, le aree interne subiranno un ulteriore spopolamento con maggiore concentrazione di popolazione sulla costa, alla nuova realtà che nascerà dalla fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore ottenere questi finanziamenti consentirebbe di poter migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini ed avere un risparmio di spese correnti. A Pescara, Montesilvano e Spoltore ovviamente potrebbero arrivare ben 8 milioni di euro annui come minimo perché potrebbero arrivare il 20% dei trasferimenti statali del 2010 quindi prima dei tagli lineari fatti dal governo Monti e dai governi precedenti ciò significa che in 10 anni, perché parliamo di finanziamenti per 10 anni, potrebbero arrivare ben 80 milioni di euro per la nuova città oltre a questo ovviamente ci sono altri fondi aggiuntivi che ho previsto sempre con questo emendamento al decreto crescita e che dovrà essere ovviamente discusso con i nostri colleghi di governo della Lega prevenendo un ulteriore finanziamento vincolato solo alle grandi città in essere cioè ovvero a quelle fusioni che riguardano città che diventeranno con più di 150 mila abitanti ed è l'unico caso italiano e ovviamente quello della nuova Pescara. E questi fondi poi come verrebbero impiegati? Ecco, questi fondi verranno impiegati dalla pubblica amministrazione del nuovo sindaco come vorranno non c'è un vincolo di destinazione da parte del governo diciamo il governo e lo Stato centrale ha interesse a che alcune città si possano fondere perché hanno una identità sociale, hanno una identità di scopo, scopo turistico che può essere quello per pescare Montesilvano e di migliore gestione del tessuto sociale come ad esempio un migliore pieno traffico pensiamo alla raccolta di rifiuti e tanto altro quindi in realtà questi fondi il nuovo sindaco, il futuro sindaco anzi della nuova Pescara potrà gestirli come meglio vorrà per dare magari migliori servizi alla cittadinanza che è quello che noi speriamo.